La ruota panoramica da 30 metri a Dante Le operazioni di montaggio sono già iniziate e dovrebbero concludersi domani La ruota in teoria potrà aprire i battenti a partire dal 7 dicembre per rimanere in piazza Dante fino al 26 Stando al regolamento comunale, infatti non può occupare lo spazio pubblico per più di 20 giorni consecutivi Ma i gestori chiedono al comune di poter aprire anche questo weekend Speriamo nella clemenza del comune almeno sabato e domenica Giusto per questi turisti che arrivano con il trenino speciale e escono da lì Si vedono questa bellezza così ferma, non è simpatico Dopo questo punto io devo rispettare le leggi Logicamente se il comune mi dice apri alle 7, il 7, apriamo il 7 Dopo piazza Dante la ruota si dovrebbe trasferire al Muse dove resterà fin dopo la metà di gennaio Oggi i primi sopralluoghi con i camion, domani con le gru Ci farebbe piacere che anche i bambini che vanno al Muse così magari con uno sconto particolare a quelli che vanno a visitare al Muse Però completare il percorso natalizio diciamo fino a metà gennaio al Muse E per i bambini c'è anche una sorpresa per il giorno dell'apertura, 50.000 biglietti gratuiti da distribuire nelle scuole Loro potranno salire gratis accompagnati però logicamente perché l'investimento è grande quindi non si può dare tutto gratis